Ancora buone notizie sul fronte dell'emergenza coronavirus per l'Irpinia. I sei nuovi casi di positività riscontrati oggi dai 1.350 tamponi effettuati in Campania non riguardano la nostra provincia. Fortunatamente sono sempre più le persone che sono riuscite a sconfiggere il Covid-19. Anche il comune di Fontana Rosa è Covid-free, come comunicato dal sindaco Giuseppe Pescatore nei giorni scorsi. Ed intanto anche il Moscati di Avellino, da oggi è Covid-free, infatti una 93enne di vallata è stata dimessa. La signora era stata assistita dallo scorso primo giugno nell'unità operativa di malattie infettive e risultata negativa al secondo tampone, presentando un quadro clinico complessivamente buono, ha potuto lasciare la città ospedaliera e fare ritorno alla sua abitazione. Nonostante le buone notizie, però non bisogna mai abbassare la guardia ed essere sempre cauti rispettando tutte le disposizioni, poiché proprio oggi in Campania ci sono altri sei casi di Covid-19 per un totale di 4.624 persone positive. i deceduti sono 431, dei quali 57 purtroppo in Irpinia, ed i guariti 4.061. Ed intanto il governatore della campagna, Vincenzo De Luca, proprio oggi ha emesso una nuova ordinanza che dispone l'isolamento domiciliare con divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni per gli abitanti della zona dei Palazzi Cirio a Mondragone per un presunto focolaio di infezione Covid-19 emerso nei giorni scorsi.